signori benvenuti su super mario odyssey nello scorso video abbiamo fatto il regno del mare non sbaglio sì 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 ok e oggi come forse l'avevo già specificato il regno del mare ma come voglio specificare di nuovo faremo il cartello di pitch vediamo questo di nuovo l'ultima volta che l'ho visto aveva in mano una valigia secondo me ora va in giro sono sicuro però comunque fammi vedere ok ora devo stare tre ore qua io non taglio nulla e non me ne frega un cavolo non taglio nulla ok 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 asso delle atleti tac oddio però siamo già a tutte queste lune e tipo siamo già a un minuto solo a un minuto wow che bello ok cappellaio principiante ma aspettate ma quante sono le lune 104 oddio mi ricordo un bel numero mi ricordo una bella cosa 104 vabbè non è che devo perdere se mi sentite così è perché ho una voce di merda proprio io sono io proprio questa è la mia voce scusatemi ho una voce di merda si lo so ah basta ok 11 lune ok va benissimo emm però penso che me ne mancano poche lune eh si proprio poche allora quindi il castello di peach è noto per avere un sacco di dipinte e quadri tipo come abbiamo fatto quello con il rigno e la luna ma non c'erano niente però questi qui ci danno qualcosa adesso è il coso per più andare ok andiamo per di qui vedete pure qua in questa torre se l'apriamo si nasconde un dipinto eccolo ci da la luna eh ragazzi ci da la luna è perché è tipo come super mario 64 è bellissimo ragazzi vi faccio vedere faremo anche super mario 64 ok no però questo è io vi ricordate che io non so più fare ho domoceso 2 oh madonna ok va andate ma perché non ritornate nel muro eh bravissimi ok 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 fatto allora questo qui cioè è semplicissimo per il fatto è sconfiggerli quello perché secondo me questo mo si deve fare 4 volte o 3 perché secondo me 2 volte non va bene perciò lo dico oddio santissimo andiamo per di qua a questo punto no questi ci inseguono questi qui vedete prima di schivarli ecco ecco non ci posso credere già no allora secondo me sono 2 perché è veramente impossibile c'è ragazzi guardate la difficoltà del livello cioè io come faccio mo ci voglio se ce la faccio solo se ce la faccio solo Gesù Cristo ok non muoviamoci dove si trova no voglio muovere impossibile guardate guardate devo prima schivare ragazzi devo prima schivare guardate guardate cosa fanno se ci si trasformano prima in questo tipo fuoco rifacciamo poi ha la caratteristica di super mario 64 proprio è fantastico proprio che super mario 64 è uno dei miei giochi preferiti se possiamo dire quindi è meglio arrivare a questo punto alla seconda volta in cui lo devo uccidere con 3 di vita oppure oppure se non ce la facciamo prendo 6 perché è l'unico modi modo non ho detto l'unico motivo rip allora più o meno la cosa oddio oh no mamma mamma ok ottimo lavoro allora siamo arrivati con 2 di vita ora secondo me dobbiamo staccarci da qui perché secondo me ci troviamo meglio vai andate così ok bravissimi vedete pure lei si sta rigenerando quindi non c'è problema 2 se ne stanno rigenerando ok a posto no qua non ancora qua non ancora ok devono prima ok bamb bamb ok ancora oh no oh no oh no metto qua così nessuno mi prende ok 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 no 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 oh my god ok 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 come faccio cioè un po' mi viene pure da ridere ma non è una cosa da ridere è questo il fatto cioè dio santo guardate qui allora se devo farne due va benissimo se invece ne devo fare tre è impossibile che figuriamoci come sarà così ok 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 non mi interessa non mi interessa non lo prendo allora distruggiamo quello non mi interessa proprio ora ancora ancora zio vedete mi arrivano tutti non potete solo distruggerli un'altra volta nooo sono morto dai la prendo il 6 sapete mi prendo il 6 vado a prendere un attimo il 6 raga allora il 6 dove era eh si vicino ok il negozio è solo lì eh no raga perché secondo me senza il 6 è impossibile no mi interessa voglio questo bravo grazie ok è qui ok andiamo mo secondo me ce la facciamo vai oh cavolo ho premuto una cosa che non dovevo premere allora iniziamo così benissimo ok ok allora questo 2 non è nulla veramente non è nulla come ah io mi pare che ho detto che non è nulla altri 2 di solito qui ok 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 ottimo lavoro ok vai hai schietto a tutti e di qua vai bravo allora ora non mi inganna dopo che si trea lancia le palle e poi ritorna qui non ci inganna questa cosa già l'abbiamo vista fare guardate lancia le palle e poi già dopo un poco se vedete io posso vedere le ombre ecco qui ecco qui ecco qui raga ecco qui allora sì però no 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 è così no 2 di vita no raga no no se no con il sedio riuscirci no raga tutto male con il sedio riuscirci ok ok no no si era spento il monitor no raga si era spento il monitor ok si ce l'ho fatto yes oddio raga si era spento il monitor oddio multiluna addirittura grazie ma no non mi basta la pena vabbè questo basta andiamo qua yeah ah 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 rinconi 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 newton pstiti eh però qui sono lune qui invece sono stelle ok ma poi sembra ora non ho il non l'audio attivato per voi perché sennò andiamo cioè non si capisce più nulla perciò l'ho voluto fare ok allora qui sta sia questo qui sto coniglio pazzerello che può sempre pazzere pam ok sto alterando il castello di piccio allora adesso sembra che qui le lune di energia siano una forma di stella wow ma io sono accorto io me ne sono accorto da un bel po' si stanno aspettando il castello ma io sono già andato al castello e infatti non c'è più il punto allora che volevo dire che dovevo dire il seme eccolo quello dovevo fare questo qui eccolo qui lo dobbiamo portare allora al giardino ci sta ok quindi dobbiamo lanciarlo lì nel frattempo noi troviamo altri castelli come questo qui che abbiamo fatto che era stato un po' difficile però comunque era pure perché con questo mi ero trovato di difficoltà propria che strano veicolo no non ti preoccupare si fa così accelera peccato che non lo so guidare tanto oh entra ok vediamo ma regno delle neve quando me lo dite portarle per ibernia per ibernia per ibernia per regno delle neve vuole ibernia ibernia sta sta cioè non sta lì si deve scendere per andare ad ibernia ok ok qui c'è un altro castello vediamo quindi cosa c'è qui oddio no non ci posso credere vediamo dai vediamo perché questo qui c'erano i cereali che mi curavano cereali che alcuni c'erano cose che mi curavano ma secondo me l'aggiunta di questi vedete c'erano i cereali che davano ecco il cuore ok niente male ok allora dobbiamo girovagare perché se no mi arrivassi così in faccia allora per il semplice motivo che ok così proprio così ok dammi vado a prendere il cuore così evito di fare spioneggiate così ecco ora mi rimane da fare l'ultimo l'ultimo quindi cerchiamo di non sbagliare pure perché allora è difficile perché comunque ci sono tutte queste spine che ti ritorno muori tipo ti fanno il culo però non è come quello lì la di prima no voglio sono caduto questo qui è difficile no è difficile voglio perciò dai per favore un'altra volta solo una eh no vabbè ma ha ragione lei perché ci ho messo tantissimo non ci sono più i cavolo non ci sono più io dove mi riparo quindi vuol dire rimanere con il tuo a vita no no lei se mi cattura mi trasforma con l'uno ok così così ok 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 gliel'ho dato non so come ho fatto ma gliel'ho dato pure perché pure l'altra volta ho detto ma che culo che gliel'avevo dato perché l'altra volta gliel'avevo data la prima botta non so come come avevo fatto l'altra volta ok così oh yeah ah 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 ok davvero fantastico però rivencita al monte vulcan bone comunque da considerare che una delle lune delle 104 lune che dobbiamo raccogliere è acquisti al castello di pitch cioè no al regno del castello di pitch il regno dei funghi come lo volete chiamare e che quindi è l'acquisto che io non ho ancora fatto ah qua c'è questo qui però no allora quindi oh non sei con me no no non ti preoccupare sei così oddio oddio raga e che cosa ci sarà secondo voi in più ok pronto no siamo nelle nuvole quindi che vuol dire cioè se per sbaglio cado muoio questo vuol dire sì ma se te ne vai così lontano è normale è logico amo ah mio vabbè no raga non lo faccio guarda che difficilissimo non me l'aspettavo così difficile cioè allora non penso che abbia ricarica infinita perciò non lo faccio che tipo poi dobbiamo gestirci noi cioè dobbiamo gestirci noi dobbiamo arrivare solo lì cioè perché se no cadiamo moriamo no raga è impossibile pensate tipo io sto a due chissà come sono arrivato a due e devo fare l'ultimo per sbaglio cado sotto cioè pensate cioè questa è la cosa di cui mi metto paura no 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 non ci credo non ci credo è rip 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 vabbè però lo abbiamo fatto per delle monete quindi al momento le ritrovo tutte le tue pecorelle allora questa qui Fatti dare io! Che stronzo! Oddio, allora... Mmm, non c'è niente di me che non mi interessa. Chi potrebbe andare da MD a fare la spesa? Vengo anch'io! Ehi... No, no, già sono entrato. Quindi dobbiamo andare dall'alto del castello, perché lì... Perché lì, qua, più o meno abbiamo esplorato un bel po'. Ma come facciamo con questo? Come facciamo? Ehm, non l'ho mai visto, forse. Sapete? Una 3DTAC, ragazzi. Poi ci sono un bel po' di roba, me lo ricordo benissimo. Nooo, no, 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 questo ci... Questo ci ho messo 3.000 anni, wagyu. No, wagyu. Questo qui ci ho messo 3.000 anni. Giuro. Cioè, ragazzi. Questo qui è stata la cosa più difficile che mi è capitata. Non si deve perdere, manca un poco di tempo. Vedete? È impossibile. Questo qui... Io non so come ho fatto, ma nel primo account sono riuscito a farlo. Però non so tutt'oggi come sono riuscito a farlo. Manca nel secondo riesco più a farlo. È veramente difficile per me. Poi se c'è qualcuno che riesce... GG. Perché è impossibile per me. Oh, aspetta, questo è un pittore. No. Non mi interessa. Ok. Oh, Mario. Dobbiamo fare Mario a quanto pare. Benvenu. Ok. Almeno 60 punti. Almeno 60 punti. scoperto, abbiamo. Ma secondo me non l'ho fatto più in qua... No, voglio, io non mi trovo con le misure. Cavolo. È proprio perché sono abituato a fare il... Goomba. Il Goomba è veramente sempliciotto. Ho finito però Non me la sono cavato Guarda 39 infatti Guardate che schifo che ho fatto Dove fare con lei sovracciglia Cavolo Ma questo si che è difficile Quindi in questa posizione Dobbiamo mettere Ok io direi di partire qui Mettendo la bocca Così Così Ok Poi Lo spessore della bocca più o meno Cioè ci capiamo no? E così Poi Così Ecco M Poi Così Ricostigliamo anche le ciglia Che sicuramente sono tipo così 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 Ok Qua Così Oh 60 punti però me le devi dare Ma io ho questa Ho questa sensazione che tipo mi dà tipo 56 Una cosa del genere Vediamo Vediamo Ma se me da 56 lo picchio 53 Ancora peggio Oh yes Allora Muffangubbolo In effetti Però Non è proprio Perfetto Perfetto Andiamocene Ma raga Pensate Quello senza Al viso Pensate E' vero che non cambia Così nulla Però comunque Cambia Cambia Raga No Uffa E' veramente Impossibile Ma secondo voi Perché devo Prendere questi No Pure perché non posso Perché Se io tengo Que Il Cos qua Come si dice Se io tengo Il Cap Eh Cap Cap Qua Oddio No No Uffa Uffi Non è giusto La andiamo per Di qua Facciamo Me Le facciamo Prima Allora Comunque Devo dire Che Oddio Ok Ovviamente Non è solo questo Sono sicuro Cioè Ecco appunto Che era Impossibile Ok Grazie All'interno Però va bene Non mi interessa Dove me la da Basta che me la da Caccia di noti Intorno al Puzzo Ah perché Questo è un Puzzo Andiamo Nel Puzzo Ok Secondo me Qua ci dovrebbero Essere Due lune Cosa Ah Si muove No No Non Oh E mo Fati scemi voi Però Allora Ok No Non posso Prenderla LUCARUDO Oh Yes Ok Non ho più Intenzione Di farlo Mi è venuta Una Grande Intenzione Di non farlo Più Non so Perché Ma Multistream Che cos'è Oddio No No Meglio non toccarlo Ho paura Che succedano Cose brutte Poi perché Stavo girando Il video E se Mi stoppa Il video Bestemmio Perché Non voglio fare I tagli E tutto Per questo Formato Ok Allora Ok Vediamo Ok Allora Avevo Il monitor Spento Ragazzi Con lo Riaccesio Ok 2700 Ottimo Ora qui Se nessun altro In questi casi Che si fa Volevi Volevi Oh Qui che cosa c'è Oh qui che cosa c'è Ah Allora Qui vediamo Apriamo Sfondiamo Vediamo Uh Bello Questo Vai Forse Lo voglio fare Qui Ok bravo Come non l'ha preso Bam Mo l'ha preso In pieno Quindi non poteva dire Nulla E Shbam Beccati questo Sfondiamo Dopo questo qui Io non dobbiamo Più fare nulla Perché Penso che sia arrivato Allora Dovremmo Stare di qua 37 38 8 minuti Ok Bam Oh Maio Oddio Che cosa ho fatto Che tavolo era quella cosa che ho fatto Oddio Che figo Batti le mani Schiocca le dita Ok Aio 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 Qui Qui Aio 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 Non ci credo Sono morto alla fine Non ci posso credere Dai Non è possibile Cioè Come ho fatto a morire qui Dai È stata la cosa più bella No Lo voglio rifare Non mi interessa Vai Forza Lo voglio rifare Qui E guard Qua Eh Grazie Cazzo Beccati questo Eh di Guardate 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 Quando ce ne sono Eh di Certo No Aio Ok Bene A posto Ok Grande Ci sono quelli che mi rovinano la vita Capite BAM BAM Magikots No Why you No No Allora Why you Andiamo Alla Odisei E Prendiamo Ehm Prendiamo il 6 Eh no Però Stiamo a 41 minuti Quando potrebbe durare Questo Va bene No raga Ehm Noi ci salutiamo Perché Sono le 5 e 43 A questa ora In realtà Dovrei pubblicare Dovrei fare altri video Di Super Mario Odyssey Quindi RIP E niente Ci vediamo in un altro video Ehm Specificandolo E niente Ciao Ciao